ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo l'orologio che andremo a vivisezionare oggi è il gf38 heritage ora ho detto gf38 per non dover pronunciare il nome reale che è grand fond 38 heritage questa pronuncia così francese accentuata mi dona 38 e non invece non è 38 39 mm di diametro cassa però si chiama grand fond 38 avevo già recensito un orologio di zrc casa svizzera che affonda le radici nel passato quindi se volete dei rimandi storici andate a cercare quel video in quel caso avevo recensito il suo fratello maggiore ossia un modello mi sembra con 41.5 di cassa quello con non mi ricordo il nome quello con la ghiera con il brevetto per il quale ci passa l'acqua dentro e pulisce tutto a questi tecnicismi mi piacciono tanto quando sono così tecnico che riesco a descrivere bene l'orologio precedente sono molto contento invece in questo caso ho preso la cassa 39 che non avevo mai recensito e l'ho presa perché è un modello nuovo praticamente è la prima volta che giunge sul mercato con il bracciale maglia milanese e con questo quadrante così diciamo retro con questi indici finti virati chiamiamoli così io li chiamo color miele che è molto più poetico orologio che mi è stato messo a disposizione chiaramente dall'amico giacomo che è il titolare della gioielleria pasquali domenici di viareggio che parte l'ufficiale del canale ed è concessionaria del marchio quindi chiamatevi fa un bel prezzetto e potete portare a casa tutto quello che volete non solo gli zrc anche gli altri finito lo spot pubblicitario possiamo passare all'orologio ora prima di guardarlo bene vi mostro l'orologio del giorno che è un po una novità una mezza novità ossia il mio omega speed master è già un po che ce l'ho lo sapete tutti è lo speed master con il coaxial 3861 l'ultimo uscito l'ultima versione uscita da omega e che qui indosso con il mio nuovo centurino in pelle di coccodrillo nabuc ora che ha visto il video precedente dall'amico jonku straps in laboratorio dove me ne sono fatti fare artigianalmente sul momento nabuc ho scoperto cosa significa nabuc perché ho studiato dopo ho studiato nabuc significa che è la lavorazione viene fatta sulla parte esterna della pelle cioè sul fiore della pelle mentre scamosciata che poi sarebbe uguale perché scamosciata è la parte la lavorazione che viene fatta sulla parte interna sulla crosta quindi è una lavorazione di minor pregio il nabuc è fatto sulla sul fiore della pelle quindi è un cinturino in coccodrillo nabuc lo morbido vellutato e c'era anche insieme c'era ma aveva fatto anche quello in alligatore lucido che è un classico è un classico chiaramente mi sono portato via anche l'alligatore lucido e ho fatto finta che mi servisse no no questo qua mi serve per quando vado a mangiare il pesce a forte dei marmi lucido elegante al farò vabbè allora prendilo in realtà io detesto il pesce e odio la vita mondana quindi al limite me lo metto quando sono sul divano a guardare la televisione che il massimo della pericolosità può essere che esplode la televisione stessa quelle lì sono le situazioni ma adesso bando discorsi inutili bellissimo a me piace a me piace molto ma l'ha rivitalizzato devo dire la verità ci sta proprio bene giriamo la camera diamo lo sguardo allo zrc 38 heritage e poi ci troviamo qui come al solito per le elucubrazioni personali diamo uno sguardo ai risultati ottenuti dalle misurazioni effettuate sul campo diametro cassa 39 mm spessore 13.8 ingombro trasversale al polso 46 mm interasse ansa da 22 misure che sono definibili come compatte senza però andare a farlo apparire come sottodimensionato il rischio con i diver di misura contenuta è quello di poter risultare troppo piccoli sui polsi consistenti non è questo il caso in quanto anche su di un polso da 19 cm come il mio si piazza in maniera proporzionata e ben visibile grazie alla corona d'ore 6 e dalla prolunga in acciaio che consente di utilizzare il bracciale insomma è un orologio che riempie il polso trasversalmente e che risulta in linea con lo spirito tool watch che intende riproporre occorre abituarsi all'assenza della corona non sono così frequenti gli orologi con questa soluzione e ad un primo approccio potrebbe essere destabilizzante la scelta di posizionarla ad ore 6 porta però con sé altri vantaggi in primis la pulizia di linee ed in secondis elimina il fastidio di possibili urti sul dorso della mano il punto forte è però il brevetto proprietario per il quale non è possibile indossare l'orologio con la corona estratta la prolunga impedisce allo spezzone di aprirsi e non ci si può quindi dimenticare la corona aperta il punto negativo è che la manovrabilità della corona stessa è piuttosto macchinosa occorre tenere il bracciale a 90 gradi ed è quindi impossibile utilizzare l'indice attenzione ricordatevi che si svita in senso orario ossia al contrario rispetto al solito risulta quindi palese che l'intero design dell'orologio è fortemente caratterizzato dagli elementi fin qui citati ma c'è dell'altro una cassa in vecchio stile con una car ora alquanto sottile sulla quale si piazza a modi torretta il gruppo ghiera e vetro zaffero forme spigolose che vedono il culmine sul lato cassa laddove due superfici si incontrano formando un angolo ottuso alquanto visibile e piuttosto caratterizzante proprio al centro della cassa andando a delineare una ideale linea orizzontale che va da ore 9 ad ore 3 allo stesso modo anche le altre superfici si incontrano senza smussature possiamo osservare infatti spigoli vivi sul dorso cassa e su tutti i lati delle anse tranne il lato interno delle stesse che curiosamente vede un sottile bisello lucido inclinato che accompagna verso il bracciale ho messo in evidenza il fatto che sia lucido in quanto è la spazzolatura a definire la finitura generale dell'orologio una globale lavorazione opaca che mette in evidenza la sua vocazione le uniche finiture lucide oltre ai biselli precedentemente visti le si trovano sulla corona e sulla zigrinatura della ghiera quest'ultima è a 60 scatti ed unidirezionale comodamente manovrabile presenta un inserto nero realizzato in acciaio sul quale sono riportati gli indici per calcolare i tempi di immersione si tratta infatti di un diver resistente a 30 atmosfere ossia circa 300 metri di profondità occorre menzionare il fatto che la casa dichiara che sono testati a ben mille metri un dato alquanto interessante alla luce delle performance tecniche ciò è dovuto allo studio sulla deformazione dei differenti materiali z rc dichiara infatti di dedicare molta attenzione su come interagiscono ceramica vetro ed acciaio all'aumentare della pressione statica lo si evince anche dal fondello che vede un particolare sistema di fissaggio vi è infatti un anello esterno che avvitandosi va a premere il fondello contro le guarnizioni sigillando così l'intero sistema cassa questo sistema offre anche un effetto collaterale estetico ossia le scritte presenti si troveranno sempre nella stessa posizione elegibili dall'alto verso il basso tutto ciò ha il compito di proteggere il meccanismo interno che altri non è che il classico sellita sv200 qui però presente nella sua versione elabore versione che prevede l'utilizzo di materiali migliori una decorazione estetica avanzata e soprattutto una regolazione su tre posizioni operazione che gli consente di essere dichiarato con uno scarto giornaliero pari a più 7 meno 7 secondi ma torniamo al lato a e alla ghiera da quest'ultima parte il trasparente a cupola piatta che prevede una certa curvatura laterale e che poi si appiattisce repentinamente nella parte superiore una copiata che mette in evidenza una piacevole distorsione visiva sul bordo quadrante e una perfetta visibilità al centro visibilità che poi definitivamente conclamata nel momento in cui si osserva il perentorio contrasto esistente tra fondo nero opaco ed accenti color miele gli indici e le sfere mettono in mostra la medesima silhouette una sagomatura matita facilmente riconoscibile che risulta chiaramente più evidente sul doppio indice ad ore 12 ed anche di maggiori dimensioni in modo da fungere da riferimento inequivocabile tutto l'insieme ci restituisce quel sapore retro che è poi lo scopo di questo orologio la piena sensazione di trovarci di fronte ad un orologio contemporaneo ma dai richiami vintage ci sono poi un paio di dettagli che mi piace farvi notare il datario che vede l'alternarsi dei numeri in rosso e in nero e la sfera secondi con quel marker tondo posto quasi sull'estremità lo ritengo apprezzabile esteticamente e funzionale in quanto consente di comprendere al volo se l'orologio sta correttamente marciando o meno ed anche in assenza di luce in quanto è ricoperto di superluminova x1 al buio possiamo prendere atto che tutti gli elementi necessari a restituirci la corretta compressione dei tempi sono luminescenti promosso occorre infine menzionare il bracciale che rappresenta assieme al quadrante la novità di questo modello è un maglia milanese soluzione inedita che lo impreziosisce esteticamente occorre sottolineare che i modelli equipaggiati con un bracciale standard hanno il finale di riduzione realizzato diversamente in quegli orologi non è possibile montare un cinturino in pelle se non acquistando a parte il finale che è presente in questa versione va da sé che qui è possibile smontare il maglia milano e montare un pelle qualsiasi per farlo occorre agire sulle viti a testa esagonale presenti sull'attaccatura un sistema pregevole e sicuro che conferisce una certa aura tecnica a tutto l'insieme per quanto riguarda il bracciale in sé occorre sottolineare che lo spessore è ben presente non è uno di quelli standard reperibili nell'aftermarket sono due spezzoni integrali non sono presenti viti per smontare segmenti ed accorciarlo a misura il tutto è demandato ad un sistema di chiusura che permette una regolazione fine millimetrica lo spezzone lungo si inserisce nella chiusura e può scorrere comodamente fino alla misura desiderata voglio sottolineare che non ha nulla a che vedere con i sistemi economici che troviamo su orologi entry level qui la sicurezza è garantita da un meccanismo solido e ben dimensionato a prova di errore possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali promosso orologio sicuramente promosso perché io sapete ho anche un debole per gli zrc è proprio per tutti tutti quasi tutti i modelli rientrano nei miei gusti c'è da dire che non è che si discostino così molto uno dall'altro noi vari modelli che hanno a catalogo e questo è anche un forse un loro punto forte perché hanno un'identità abbastanza riconoscibile lo subito quello lì è uno zrc non è che fanno per adesso almeno field watch dress watch fanno tutti i orologi diver così da utilizzare come strumento di immersione con anche dei brevetti no c'è da dire che c'è un'altra casa che magari li assomiglia poi tritone ne avevo anche recensito uno e l'avevo bocciato quello mi dispiace ma costava veramente tanto per quello che offriva 5.000 e passa euro è veramente uno di quei casi nei quali mi sono proprio appellato al prezzo esagerato e la qualità non all'altra partezza succede in questo caso gli zrc mi piacciono tutti mi piace soprattutto anche questo qua con il bracciale a maglia milanese io ho due orologi con un bracciale a maglia milanese c'è lo skin diver di long jean e l'emilton intramatica cronografo chiaramente non li utilizzo contemporaneamente con il bracciale a maglia milanese perché è molto identificativo quando ti indossi questo orologio un bracciale a maglia milanese al polso le persone ci girano te lo guardano magari ti fanno anche dei complimenti inaspettati ma è semplicemente perché attira molto questo bracciale qua questa tipologia quindi averne due montati su due orologi mi sembra ridondante quindi li alterno a volte uso in uno metto un bracciale un cinturino in pelle nell'altro uso il bracciale a maglia milano però devo dire che se non ce l'avete o se è il suo il bracciale a maglia milanese fa il suo come si vuol dire poi è molto semplice a sostituirlo con uno in pelle anche questo però io non sostituirei perché proprio insieme a questa prolunga qua particolare patentata no e pur essendo da 39 riempie bene il polso soprattutto in lunghezza così sta proprio bene poi punti positivi ci sono degli aspetti tecnici da considerare appunto questo fatto qua della del fondello in due in due pezzi con la barriera esterna con l'anello che va ad avvitarsi e preme tutto il fondello contro le guarnizioni così da garantire 300 metri di impermeabilità e il sistema di protezione della corona che non ti permette di indossarlo se è svitata se è svitata se te la dimentichi svitata non ci va in acqua non ci puoi entrare l'acqua perché non si non si apre il bracciale e non lo puoi indossare pataping per contro però è questo il punto debole l'unico che ho riscontrato in questo orologio è veramente la corona che per manovrarla bisogna tenere il bracciale così a 90 gradi verso il basso e poi lavorare così non è semplice io devo dire che a volte per fare le riprese prediligo mettere l'orologio alle 10 e 10 in modo che sia ben visibile tutto e in questo caso ho saltato di farlo molte volte perché non avevo proprio voglia di mettermi lì a tribolare svitare regolare e rimettere perché è un'operazione abbastanza scomoda quantomeno scomoda poi ci si fa l'abitudine per l'amor del cielo è talmente carino come orologio carino che si può anche passare sopra questa cosa qua altri punti deboli non ce ne belle finiture la ghiera 60 scatti qualcuno magari pensa che sia un punto debole per me è differente anzi trovo che quella 60 scatti abbia abbia più senso si va di minuto in minuto cioè è inutile avere quei 30 secondi durante la lettura dei tempi non servono a niente poi ti mi dici è più preciso no non è più preciso se gli scatti sono precisi un 60 basta sono sufficienti ma non capisco perché tutti prediligono 120 scatti però vabbè così è anche il sistema di chiusura è simpatico ragazzi ben fatto non è come quello dei casio digitali da 15 euro che anche loro c'hanno braccialetto così track e si è una puttanata questo qua è veramente ha un bloccaggio sistema di bloccaggio veramente efficace e quindi avete una regolazione senza soluzione di continuità nel senso che potete scegliervi la lunghezza precisa al decimo di millimetro oserei dire quindi anche questa qua è una bella promozione poi per il resto ragazzi vedo tutto vi ho fatto vedere tutte le fotografie tutte le riprese tutti i dati tecnici possibili ecco durante la recensione dico che zrc studia la distorsione dei materiali impressione e ho detto ceramica perché ci sono certi orologi che hanno la ceramica non è il caso di questo è questo qua alla ghiera l'inserto ghiera in acciaio quindi non è che perché ho detto ceramica nel video c'è la ceramica qua no ecco va bene dai mi sembra di aver detto tutto io vi ringrazio per essere arrivati fino qua spero vi sia piaciuto il video l'orologio il presentatore il contesto ed anche il microfono che sta riprendendo la mia voce vi ricordo gli appuntamenti fisica come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love ciao